è arrivato il turno di edoardo ribichesu ciao edoardo ciao alessandro buongiorno un titolo lunghissimo devo leggerlo head of partner success italy di italy casavo no di italy quello che farà mangiare ma casavo di casavo resto ancora nell'immobiliare allora cos'è un head of partner success questa è una bella domanda in pratica il mio ruolo è quello di organizzare coordinare quella che è tutta l'attività di collaborazione che casavo fa con le agenzie immobiliari sul territorio italiano in particolare ovviamente nelle cinque città dove abbiamo un'operatività maggiore quindi milano roma bologna firenze torino dove siamo attivi con l'intera linea in realtà da qualche tempo la collaborazione si può espandere sta cominciando a espandersi anche all'esterno dove siamo operativi in modo in modo diverso però ecco tutta quella parte di nostro team che si occupa di diciamo stabilire i rapporti con le agenzie immobiliari sviluppare il business con le agenzie immobiliari passa sotto il coordinamento di questa funzione che appunto abbiamo chiamato partner success perché l'agenzia è nostra partner a tutti gli effetti resta ovviamente è un rapporto completamente indipendente è un rapporto commerciale che abbiamo però diventa una vera e propria partnership perché possiamo sviluppare un rapporto che diciamo evolviamo nel tempo e che si trova ad avere diversi punti di contatto siamo sviluppiamo business su vari fronti con l'agenzia ecco casavo per quelli che ancora non conoscessero diciamo il vostro modello di business è un ai buyer dai una breve panoramica di cos'è un ai buyer e perché può essere un un partner per un'agenzia immobiliare per un'agente immobiliare beh hai detto bene casavo è nata come ai buyer in realtà poi ci arriverò dopo si sta evolvendo sta evolvendo suo il proprio modello nel portarlo a essere qualcosa di più di un ai buyer però l'ai buyer effettivamente è il modello che noi abbiamo importato dagli stati uniti ed è un modello che prevede l'utilizzo di una piattaforma tecnologica e di una disponibilità anche finanziaria per poter acquistare rapidamente in tempi estremamente brevi immobili tendenzialmente residenziali valorizzarli attraverso una ristrutturazione nella stragrande maggior parte dei casi e reimmetterli sul mercato in modo estremamente rapido da qui il tema instant buyer l'apporto tecnologico in questo modello è fondamentale perché una valutazione rapida un rapida una esecuzione anche rapida della transazione sono fondamentali per far diciamo girare i numeri di queste operazioni che sono tantissime con margini molto contenuti questa è anche la grossa differenza tra un ai buyer e un investitore tradizionale e questa tecnologia questo modello importato dagli stati uniti nato poi pochi anni fa negli stati uniti è stato portato in italia da casavo all nell'inizio del 2018 l'azienda è stata costituita nel 2017 e dal 2018 abbiamo transato fatto transazioni prima in italia poi ci siamo espansi anche espansi anche in spagna portogallo e recentemente in francia andando a effettuare più di 5 mila transazioni più di un miliardo e 700 mila 700 milioni di euro di transazioni quindi volumi che sono cresciuti cresciuti molto questo è un po il funzionamento dell'ai buyer che però appunto stiamo evolvendo in qualcosa di ancora più grande un vero e proprio marketplace una vera e propria piattaforma specifica per il mercato residenziale quindi avete industrializzato diciamo il processo di investimento immobiliare quindi il cosiddetto flipping l'acquisto per poi essere rimesso sul mercato perché quindi casavo può essere uno strumento per un'agenzia immobiliare cioè qual è il vostro il vostro rapporto con le agenzie immobiliari beh già con l'ai buyer di per sé crea un'opportunità e l'ai buyer di per sé rappresenta un'opportunità per l'agenzia immobiliare perché a tutti gli effetti un'agenzia che inizia a collaborare con casavo che inizia ad avere un rapporto con casavo sa di avere almeno nelle zone in cui siamo operativi con l'ai buyer sa di avere un'alternativa alla commercializzazione da poter offrire i propri clienti alternativa che è estremamente efficace soprattutto su specifiche casistiche di venditore su specifiche casistiche di asset ma che comunque rappresenta un'offerta immediatamente disponibile da poter portare al venditore ovviamente con un modello normale di collaborazione quindi con una normale provvigione per la gente e con la possibilità di richiederci un'offerta non appena l'incarico magari viene viene raccolto viene viene preso anche per capire che strategia di commercializzazione magari offrire a quel venditore perché potrei prendere un incarico oggi avere immediatamente sul tavolo un'offerta valida di casavo potenzialmente rogitabile in pochi giorni in poche settimane e poi decidere se procedere comunque con una commercializzazione normale o magari se quell'offerta è già buona accettabile da parte del venditore proporre direttamente quella questa è già la base diciamo della collaborazione che da sempre praticamente proponiamo alle agenzie in realtà la collaborazione si è molto ampliata recentemente perché oltre a essere una collaborazione sul canale di acquisizione è anche una collaborazione sul canale di rivendita dell'immobile abbiamo dei partner più fidelizzati che definiamo premium partner che ricevono da noi anche i mandati in esclusiva per la rivendita degli immobili che rimettiamo sul mercato e abbiamo avviato già dall'anno scorso una modalità un'offerta verso il cliente venditore che prevede anche una modalità di commercializzazione diciamo più tradizionale dove siamo in quel caso noi a raccogliere l'incarico ma che andiamo poi l'incarico che andiamo sempre a gestire in collaborazione con un'agenzia partner quindi a tutti gli effetti andiamo anche in quel caso a generare business per le agenzie partner business che generiamo principalmente grazie ai non diciamo non banali investimenti marketing che facciamo verso i venditori gli investimenti qualcuno che abita nelle città o che lavora nelle città dove siamo operativi avrà visto il grande investimento marketing che abbiamo fatto nei mesi nei mesi scorsi quell'investimento ovviamente attira una grande mole di venditori motivati a commercializzare il loro immobile verso di noi noi in questo momento siamo già in grado di dargli immediatamente due opzioni una quella della commercializzazione appunto supportata dalla rete di agenzie partner oppure l'offerta istantanea del dell'Ibuyer appunto sulla commercializzazione tradizionale è un'ottima altra diciamo un'altra parte della collaborazione efficace che possiamo avere con le agenzie perché gestiamo insieme con la commercializzazione a tutti gli effetti quindi Casamo insomma per un agente immobiliare è un ottimo compratore e anche un ottimo venditore corretto corretto possiamo definirlo così effettivamente collaboriamo su entrambe su entrambe le parti diciamo così della transazione adesso ci hai raccontato la versione diciamo beta di Casavo iniziale quindi l'investitore istituzionale oggi si è evoluto con le partnership con l'agency quindi acquisizione diretta di immobili che poi si riversano sull'agenzia premium e anche acquisizione poi di incarichi di immobili da vendere da gestire con la rete sempre con le agenzie partner il Casavo 2.0 dove dove mira ad arrivare? Beh in realtà la missione di Casavo è sempre stata quella molto più ampia di diventare una piattaforma residenziale di nuova generazione con una mira europea quindi arrivare a coprire più mercati possibile già ne compriamo copriamo quattro e non limitarsi alla sola semplice diciamo fase di compra vendita ma abbiamo sempre detto cerchiamo di migliorare semplificare il modo in cui le persone comprano vivono e vendono la casa quindi un po' tutti gli aspetti un esempio di questo è l'allargamento che abbiamo applicato alla diciamo alla rosa di nostri servizi come ad esempio lo scorso anno quando abbiamo lanciato Casavo Mutui quindi abbiamo cominciato a fornire con una diciamo divisione di mediazione creditizia abbiamo cominciato a offrire il servizio di mediazione per i nostri clienti acquirenti quindi sia ovviamente fornendolo poi anche a supporto delle agenzie partner nel momento in cui l'acquirente manifesta la necessità di un mutuo di una soluzione di home financing sia nell'allargare anche quelli che sono i servizi ancillari è già possibile ad oggi sugli immobili che Casavo commercializza per esempio acquistare l'intero l'intera soluzione di arredo quindi l'intero progetto di arredo tutti i mobili che tutti gli arredi che si vedono nei render all'interno del sito Casavo degli immobili Casavo sono tecnicamente acquistabili quindi è possibile grazie alle partnership che abbiamo fatto comprare l'immobile praticamente chiave in mano esattamente come visto all'interno del render grazie alle partnership che abbiamo fatto per esempio di recente con Milano Contra District qui su qui su Milano e con altre partnership locali che abbiamo fatto con diciamo realtà del mondo del design e dell'arredo nelle città nelle quali operiamo Quindi fornite l'immobile, lo finanziate, lo arredate, dovete solo fare Casavo matrimoni e poi trovate anche le persone da mettere dentro e li fate del matrimonio Ecco però ci tengo a sottolinearlo abbiamo cominciato ad avere forte attenzione anche verso quella che è l'esperienza dell'acquirente ci rendiamo conto appunto che come un bravo agente immobiliare se ci pensi la cura del cliente non finisce il giorno del rogito questo è un aspetto importante intanto quel cliente probabilmente ci andrà a vivere o magari metterà a reddito quell'immobile farà un uso specifico di quell'immobile una volta comprato in ogni caso avrà bisogno di supporto anche successivo da sempre abbiamo inserito per esempio l'assicurazione sugli immobili che noi consegniamo, l'assicurazione di due anni per tutte le problematiche che possono avvenire dopo il rogito, il servizio di post sales dato che siamo noi ad aver operato la ristrutturazione dell'immobile ovviamente siamo a disposizione del cliente per intervenire per qualsiasi problema, tutta la parte appunto di arredo che abbiamo citato prima e man mano servizi di questo tipo cercheremo di svilupparli anche recependo il feedback delle agenzie immobiliari con cui collaboriamo perché sono loro il primo punto di contatto con il cliente acquirente a tutti gli effetti chiaro, voi oggi operate in Italia, Roma, Milano, Firenze, Bologna e Torino e Torino, saremo quasi tutte, bravo ho fatto i compiti a casa Casavo è un'azienda italiana, è un unicorno italiano giusto? Unicorno ci stiamo lavorando, come anche nelle ultime interviste del nostro amministratore delegato di Giorgio Tinacci, la strada è quella, la strada è quella di valorizzare l'azienda penso che nessuna azienda si ponga di per sé di diventare unicorno, il tema è lavorare bene tutti insieme e la valutazione dell'azienda poi è una naturale conseguenza di un'azienda che si sviluppa in modo sano e cresce in modo sano. è un orgoglio italiano perché è stata fondata qui nel 2017 a Milano i capitali che l'hanno supportata sono internazionali perché da altri paesi europei, finanziatori italiani, finanziatori americani e varie altre realtà, non ultimi, importanti gruppi bancari in Tesa San Paolo è entrata nella compagine societaria e ha finanziato le nostre operazioni con l'ultimo round di luglio però sì, è un orgoglio italiano a tutti gli effetti anche Exor, che è la holding della famiglia Agnelli ha creduto nel progetto, negli ultimi due round di investimento e quindi sì, è anche bello vedere ogni tanto come Casavo rappresenta l'Italia l'ecosistema delle start-up italiano nel mondo due mesi fa abbiamo completato l'acquisizione di un'altra start-up francese quindi abbiamo comprato, acquisito un'altra start-up grande su Parigi e questo penso sia una delle poche operazioni di questo tipo che si sono viste in Europa, dove un'azienda italiana è andata a comprare effettivamente un'azienda estera che adesso è parte integrante di Casavo e che ci ha arricchito di tutta una parte di competenze che non avevamo quindi è nata anche una bella, come dire, è stata una bella operazione anche dal punto di vista della crescita delle competenze che abbiamo nel nostro team Adesso ci riportate anche la gioconda magari È il prossimo passo Spieghiamo per gli agenti immobiliari che operano nelle città dove appunto voi siete presenti qual è il processo di acquisto che Casavo fa nei confronti di un immobile e anche come poter entrare in contatto con voi e lavorare con voi Allora, il processo di acquisto è una bellissima domanda perché è uno di quei temi sul quale molto spesso con i colleghi ci rendiamo conto che l'agenzia si aspetta magari anche una modalità operativa diversa da quella che abbiamo In realtà il nostro processo di acquisto è tutto sommato semplice ovviamente è industrializzato proprio per poter fare centinaia, migliaia di operazioni quindi in realtà come funziona? È possibile dalla nostra piattaforma che si chiama Casavo for Agents dove qualsiasi agente immobiliare può registrarsi gratuitamente è possibile richiedere un'offerta a Casavo in pochi semplici passaggi quindi dando dei dati veramente di base relativi all'immobile noi riusciamo, i team locali, i nostri colleghi riescono velocemente nel giro di un giorno lavorativo a dare un riscontro dicendo sì, possiamo procedere con un'offerta, con una valutazione con un'offerta oppure no, non ci sono le condizioni per mille motivi spiegando ovviamente quali sono i motivi per procedere con un'offerta qualora le condizioni ci fossero, quello che succede è che viene chiesto o di visitare l'immobile con una sola visita non mai più di una sola visita fisica sull'immobile o addirittura in alcuni casi siamo in grado di portare l'offerta già a firmare un'offerta senza aver visitato fisicamente l'immobile quindi noi riusciamo a far arrivare in poche ore praticamente l'offerta sul tavolo dell'agente immobiliare senza nemmeno aver impiegato il suo tempo per una visita fisica ovviamente dobbiamo aver magari raccolto tutta la documentazione dalla gente che però è documentazione che tendenzialmente lo sai ha già a disposizione arrivata la documentazione l'offerta viene prodotto viene effettuata la visita per poter emettere l'offerta quell'offerta se accettata dalla parte venditrice quindi se è reputata interessante dalla parte venditrice prevede 15 giorni di tempo di sospensiva nel quale noi ci prendiamo semplicemente il tempo per fare tutte le verifiche del caso quindi avviare la due diligence sull'immobile incarichiamo una terza parte di fare in quel caso sì a quel punto una ispezione sull'immobile per forza ci viene richiesto ovviamente dai nostri stessi investitori e entro 15 giorni noi siamo in grado ma dico 15 giorni ma di solito i tempi sono più brevi più contenuti siamo in grado di confermare l'offerta che abbiamo emesso o eventualmente rivederla se nel caso emergesse qualcosa e a quel punto noi siamo vincolati ad acquistare l'immobile e con le tempistiche del venditore questo ci tengo a sottolinearlo perché all'inizio il nostro claim era vendi in 30 giorni poi abbiamo capito che le esigenze del venditore comandano perché il venditore potrebbe dover trovare un altro immobile liberarlo poi possono esserci mille casistiche però in quel momento noi siamo in grado di fissare la data per il rogito data per il rogito nel quale anche qui ci tengo a chiarirlo in ogni caso abbiamo diversi processi di acquisizione ma in ogni caso noi liquidiamo il 100% del valore dell'immobile e ovviamente liquidiamo la provvigione dell'agente immobiliare in sede di rogito e partiamo già con la fase di commercializzazione dell'immobile quindi anche con la parte ovviamente di cantiere, ristrutturazione e tutto quello che viene dopo per cercare poi di rimettere l'immobile il più velocemente possibile sul mercato processo di acquisto che può essere fatto con varie modalità sono due se non sbaglio corretto tendenzialmente a seconda di una serie di fattori ma soprattutto della nostra competitività sull'immobile abbiamo due processi di acquisto uno che è un acquisto diretto quindi con un normalissimo rogito diciamo con condizioni assolutamente comparabile a una normale compravendita tra privati la seconda che prevede in realtà una forma che si basa sulla cessione del preliminare però che prevede comunque che Casavo metta a disposizione il 100% della liquidità al venditore immediatamente quindi abbiamo strutturato un processo che rende estremamente vantaggioso per il venditore perché riusciamo a portare tendenzialmente un'offerta più alta in quella condizione rispetto alla condizione di rogito diretto adesso noi abbiamo visto diciamo come si comporta Casavo nella qualità di acquirente spieghiamo gli agenti immobiliari che ci stanno guardando cosa si aspetta Casavo in qualità di venditore invece da un agente immobiliare che vuole lavorare con Casavo allora in fase di rivendita abbiamo in realtà due modalità di collaborazione anche qui entrambe avvengono tramite la nostra piattaforma Casavo for Agents che ti citavo prima abbiamo una modalità che è diciamo riservata a quelli che noi consideriamo i nostri premium partner quindi quegli agenti che sono fidelizzati e con cui abbiamo già fatto diverse operazioni sia in acquisizione sia in rivendita dove lì è piuttosto semplice perché è un normale incarico in esclusiva quello che forniamo all'agenzia e per essere premium partner cosa serve? oltre ad aver fatto un po' di operazioni con noi serve anche essere perfettamente allineati su quelli che sono i nostri processi e ciò che possiamo offrire all'acquirente gli esempi che facevo prima Casavo Mutui le soluzioni di arredo tutto ciò che diciamo consegue alla transazione dell'acquisto di un immobile Casavo e qui parliamo di incarichi in esclusiva sia per di ciò che diciamo esce dall'iBuyer quindi gli immobili acquistati e ristrutturati da Casavo sia gli incarichi agency che abbiamo raccolto e che gestiamo in partnership con l'agenzia premium partner per chi non è o non è ancora un premium partner invece c'è comunque una possibilità di collaborare in fase di rivendita all'interno di Casavo for Agents esiste una sezione che si chiama vendi i nostri immobili e lì si accede direttamente a quello che è il portafoglio aperto di Casavo cioè quella parte di immobili in questo caso solo iBuyer quindi solo ristrutturati da noi rimessi sul mercato da noi che sono commercializzati direttamente da Casavo cioè in questo momento stanno venendo proposti direttamente sul mercato da Casavo su quelli il nostro approccio è di toltare l'apertura quindi viene dichiarato in quella sezione direttamente anche qual è il valore di commercializzazione che è lo stesso visibile ovviamente sui portali online ma si può vedere anche qual è l'offerta minima che noi possiamo accettare oltre a tutte le informazioni sull'immobile in questo modo gli agenti possono diciamo attingere da questo portafoglio di immobili e proporlo ai loro acquirenti magari un agente che ha avuto di recente un incarico in una zona limitrofa a uno di quegli immobili può avere dei buyer degli potenziali acquirenti che non è riuscito a soddisfare perché l'immobile ovviamente l'ha comprato una persona sola e può in questo caso portarli su questo immobile e lì è una collaborazione totalmente aperta quindi la provvigione dell'acquirente resta ovviamente all'agente all'agente partner e noi diamo libero accesso in quel caso ovviamente c'è una nostra persona che fisicamente va ad aprire l'immobile fornisce tutte le informazioni che possono servire alla gente per presentare al meglio l'immobile al potenziale acquirente però appunto è una commercializzazione in collaborazione dove il prodotto, l'immobile, lo mettiamo noi l'importante è avere acquirenti veloci esatto noi la velocità ci contraddistinguiamo la velocità è sicuramente un aspetto fondamentale in più voi alle agenzie a cui date da vendere gli immobili fornite praticamente tutto giusto? corretto, corretto tutto l'investimento marketing che si tratti di un immobile ai buyer quindi uno acquistato e risultato da noi o che si tratti di un immobile agency quindi un semplice incarico di vendita in ogni caso l'investimento marketing e anche tutto l'investimento della raccolta documentale è fatto completamente da Casavo quindi ciò che la gente si trova ad avere a disposizione nelle due modalità di collaborazione che spiegavo prima è comunque l'intero set documentale dell'immobile quindi tutte le visure, tutto ciò che serve già a disposizione e il materiale marketing che può essere un render completo di render a 360 gradi visita virtuale, set di scatti diciamo di render statici a disposizione e oppure servizio fotografico professionale che ha già realizzato Casavo quando ha deciso di prendere quelli in carico o acquisire quelli immobili quindi in realtà sì tutto l'investimento a supporto della commercializzazione è già fatto da Casavo quindi la gente non riesce a, non rimane altro che gestire diciamo la negoziazione, la trattativa e la relazione con il cliente poi portare a termine la vendita che fammi dire è la parte più importante se ci pensi è la parte dove noi crediamo da sempre la tecnologia può aiutare su tantissimi fronti su tantissimi, tanto sul contorno diciamo così poi però quel cuore lì di trovare diciamo l'incontro tra il volere di ognuna delle parti e trovare un punto di incontro che possa alla fine diciamocelo, realizzare magari il sogno dell'acquirente è lì il tocco umano del professionista che riesce a creare quella situazione quindi lasciamo lasciamo alla gente partner la parte più importante diciamo sì anche perché poi al di là dell'accordo perché una volta raggiunto l'accordo poi ci sono tutta una serie di dinamiche che intervengono dal momento dell'accordo al momento del rogito e vanno gestite e lì non si tratta più di tecnicismi o quant'altro si tratta proprio di relazioni relazioni umani aspetti intangibili che possono essere gestiti solo da un agente immobiliare o comunque da un professionista che segue entrambe le parti corretto lì c'è ancora lì dentro un mare di complessità che devono essere effettivamente gestite mentre la tecnologia su tante cose riesce a ridurre la complessità lì effettivamente rimane una complessità intrinseca dove il mediatore il bravo mediatore il professionista riesce a dare quel quid in più che alla fine porta a chiudere la transazione bene cari agenti immobiliari insomma avete trovato un ottimo acquirente e un ottimo venditore non dovete neanche farli a prequalifica del mutuo pensate un po' ci pensiamo assai ecco si arrangiano e quindi insomma quale miglior strumento di lavoro se non appunto un investitore industrializzato come quello di Casavo grazie Edoardo per il tuo contributo grazie a te Alessandro grazie a te Alessandro